Cari amici, ben arrivati, questa nuova riflessione fotografica nella quale voglio parlare di Luminar Neo. Francamente non so la pronuncia se è corretta, se è Neo, Neo, non è importanza, l'importante è il contenuto di questa riflessione. Però come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di spuntare la campanellina per rimanere aggiornati e vi ricordo anche, vi invito ad andare ai link che lascio in descrizione a questo video, alla pagina di presentazione e al video di presentazione dei nostri corsi online, dallo scatto alla stampa Fine Art, il corso Bianche e Nero Fine Art. Guarda, vedi il video e valuta se può essere un'opportunità di crescita sul piano fotografico per te. Detto questo ragazzi, torniamo a bomba sull'argomento. Francamente non volevo neanche trattarlo, però molti di voi mi hanno scritto degli email, mi hanno detto a me, come mai non hai fatto una riflessione fotografica, non ci hai espresso, insomma, la tua opinione, sul Luminar Neo. Allora, una parentesi, Luminar Neo, se non lo sapete, è un nuovo software che è uscito, in sostanza non ho capito se integra, sostituisce, non è importanza, Luminar AI. Il Luminar AI è questo software di cui ho fatto anche diverse riflessioni fotografiche, grazie alle quali, grazie alla intelligenza artificiale, è possibile andare a fare delle modifiche profondissime a una foto, sostituendo il cielo, modificando addirittura la luce a seconda del cielo inserito, insomma, facendo modificazioni importanti. Il Luminar Neo va anche oltre, perché oltre al cielo ti permette di, con un click, di togliere, ad esempio, non so, sei in una città con tutti i fili dei tram tipici in alcune città, ad esempio del nord Europa, con un click li togli completamente, oppure puoi cambiare completamente lo sfondo, cioè tu sei, ti fai una foto, ti fai un selfie a Roma a cento celle e in realtà puoi metterlo lo sfondo di New York. Questa è poi la cosa che puoi fare con un click. Quindi adesso sto anche un po' rinizzando, perché francamente secondo me c'è un po' da ridere, ma insomma cerco di spiegare il mio punto di vista. Allora ragazzi, io non entro sulle specifiche del software perché non mi interessa minimamente, purtroppo è la realtà che la tendenza intrapresa, iniziata proprio con Luminar, ma insomma la tendenza attuale, l'abbiamo visto con Photoshop, con l'intelligenza neuronale, lì come la chiamano, l'abbiamo visto con Photo Raw, insomma, che adesso anche sull'ultima versione ci sono tutti questi cieli che tu puoi modificare, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma la tendenza di oggi è quella di creare al computer praticamente delle immagini. Tra l'altro non più con immagini proprie, ma con immagini di terza, cioè con un archivio che il produttore ti mette a disposizione o volendo tu compri un pacchetto aggiuntivo dritti per andare a avere altre possibilità, insomma, a modificare altri cieli, altri sfondi, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, uno strumento marketing per la massa è piuttosto potente, tant'è che ripeto che anche Photoshop sta, come dire, seguendo questa tendenza verso la contraffazione. Io ho già espresso in maniera molto calorosa in altre riflessioni fotografiche, per me un'immagine creata da altre fotografie, da altre immagini realizzate da altre persone, e quindi creata al computer non è una fotografia, ma è un'immagine creata al computer. Non so, è una computergrafia? Utilizziamo questo nuovo neologismo? Non lo so come definirla. Fatto sta che non è una foto. Se poi tu dici io faccio più foto, ma almeno sono tue, e con Photoshop, con capacità, eccetera, i livelli, eccetera, eccetera, insomma fondi, poi immagini, già potrebbe essere discutibile, ma comunque quantomeno è figlio del tuo lavoro e hai anche capacità di post-produzione, in questo caso di fatto si tratta di pura e semplice contraffazione. Cioè noi spacciamo per nostro e per vero, per autentico, qualcosa che è finto e che non è nostro. Quindi questa, all'atto pratico, è contraffazione. In un contesto commerciale si chiama truffa. Non è che dobbiamo girarci tanto intorno, ragazzi, sui termini, cioè nel mondo legale, se tu spacci qualcosa che non è tuo, insomma dichiari certe proprietà che poi non ha quel prodotto, tu stai truffando il tuo cliente o potenziali clienti. Quindi questa, diciamo, rigidità, purtroppo nel mondo della fotografia, o per fortuna, dipende dai punti di vista, non esiste. Il fatto sta che tu dichiari sui social, per farti mettere tanti like, tante brave, tante manine che battono le mani, eccetera, eccetera, dichiari che hai realizzato uno scatto, ma che in realtà non è tuo, è uno scatto la cui parte è spettacolare, perché magari c'è un cielo con il raggio di luce, eccetera, eccetera, l'hai preso da una foto di un altro, che tu con un click, quindi non hai nemmeno capacità, come dire, di post-produzione, hai unito a una tua immagine, quindi hai creato da una fotografia, hai creato una computergrafia. Questa è la mia visione, su cui ovviamente uno può essere d'accordo, uno non può essere d'accordo, però per me è un dato di fatto. Nel momento in cui tu mi modifichi, ad esempio, un corpo femminile, che, non so, ha la gamba, ha un po' di cellulite, ha una certa forma, eccetera, e me la fai passare come se avesse un corpo scultorio, ragazzi, quella è contraffazione. Voi dite, eh, ma ormai è normale. Sì, ok, ormai tante cose che ormai sono normali è follia, però è contraffazione, cioè non è normale questa cosa, ragazzi, se uno si ferma un attimo a riflettere, cioè non è normale. Io posso capirlo che sul piano commerciale, sai, una bella gnocca vende di più di, purtroppo, una ragazza normale, no? Ma sul piano, se noi togliamo l'aspetto puramente commerciale e il fine giustifica i mezzi, cioè pur di vendere, pur di fare soldi, io sono disposto, si può fare tutto, se noi usciamo da questo paradigma ci rendiamo conto che non è normale e che questi comportamenti hanno delle complicazioni anche sul piano psicologico e sociale importanti. Non a caso società più evolute della nostra, come ad esempio società dei paesi scandinavi, hanno approvato una legge che impone ai fotografi commerciali, quindi ai fotografi professionisti che vendono le proprie foto, di dichiarare se la foto è stata contraffatta, cioè è stata realizzata tramite software di post-produzione. Sicuramente per il corpo femminile e maschile questo è obbligatorio, non ho ben capito, ho provato a cercare la legge, non sono riuscito a trovarla, il testo integrale, se vale anche per il paesaggio. Per me comunque andrebbe nella fotografia professionale ormai inserita una norma di legge, una legge che deve dichiarare, tu devi dichiarare sulla copertina, sull'immagine a seconda dove pubblichi la foto, che quella foto è stata manipolata al computer. In questo modo la persona sa che se io vedo una donna che è praticamente tanto perfetta da sembrare finta, so che effettivamente è finta. Se tu un paesaggio mi hai tolto i pali della luce, mi hai modificato la forma delle montagne per renderle ancora più belle, mi hai modificato, mi hai messo una roccia di qua, l'omino di là, eccetera, e quindi tu di fatto hai creato un'immagine al computer, quindi hai fatto una computergrafia, a quel punto io voglio saperlo, ho il diritto di saperlo, a mio giudizio. Se questo poi è una valenza commerciale, se chiamiamola arte, se è una cosa soggettiva si può discutere, ma se ha una finalità commerciale, credo che ormai sia arrivato il momento che i legislatori prendano consapevolezza di questo fenomeno che non è più ormai alla portata di pochi che hanno magari capacità e competenze sopra la media, ormai questa possibilità è data grazie a questi software di renderla disponibile alle masse, perché tu con un click puoi fare delle modifiche che un tempo richiedevano come minimo delle forti, delle importanti competenze di fotoritocco, che ovviamente la massa, cioè colui che non interessa più di tanto la fotografia o non sa più di tanto utilizzare Photoshop o altri strumenti, non poteva fare. Quindi oggi è stata reso possibile la contraffazione di foto in computergrafie, quindi in immagini create al computer, con una semplicità mai vista prima, e tutto questo a fini commerciali, facendo finta che tutto sia normale. Per me non è normale, così come non è normale che su Instagram ormai molti influencer aprono un inciso che fanno sembrare che facciano una vita ad Anna Babbi, in Spa, in Yacht, eccetera, eccetera. Molte di queste sono tutte finzioni, sono foto create praticamente ad arte per ingannare le persone, per far dire guarda quanto è gagliardo quello, guarda quanto è sveglio, tu chiaramente diventi un suo follower, e ti bevi tutte le minchiate che quel tipo ti sta facendo credere, in maniera tale che con tanti follower, poi le case, soprattutto di moda, che non hanno evidentemente morale ed etica, perché non gli interessa se le cose che tu dici sono vere oppure false, gli danno il prodotto, il rossetto, quello che è, e così tu dici, uh, hai visto? Grazie a quel rossetto anch'io diventerò bello, famoso, bravo e buono. Purtroppo so che sembra un meccanismo, come dire, semplicistico, ma è purtroppo quello che succede, soprattutto nella parte dei giovani, dei teenager, eccetera, eccetera, che ancora non hanno capito come gira il mondo, non hanno preso quelle sbadilate in faccia, e non hanno preso quei tradimenti che tutti quanti noi, che abbiamo, insomma, qualche anno più sulle nostre spalle, qualche primavera più sulle nostre spalle, abbiamo più o meno preso. Quindi è questa cosa talmente vera che proprio oggi leggevo un articolo sul Wall Street Journal che affermava appunto come Facebook, che è proprietario di Instagram, non abbia praticamente preso atto di una ricerca pubblicata appunto sul giornale su quanto fosse tossico Instagram per i teenager, e non solo, a mio giudizio. Comunque, questo chiudo inciso sul discorso dei social, ma il concetto è lo stesso, cioè tu fai finta che sia vero qualcosa che non è vero e qualcosa che non è tra l'altro tuo, perché, ripeto, stai utilizzando immagini di altri. Quindi, prima di tutto, per me, oggi come oggi ci dovrebbe essere un tema di regolamentazione, semplice, senza esagerare, grazie alla quale, qualsiasi concorso fotografico, tu devi inviare anche in RAW, qualsiasi concorso fotografico, da quello per prendere, insomma, il regalino della parrocchia, fino ai concorsi importanti, quindi dovrebbe essere obbligatorio che tu immandi anche il file RAW, così, se hai fatto il furbetto, insomma, viene immediatamente tanato, così come, a mio giudizio, ripeto, questa è la mia opinione personale, per la fotografia commerciale, professionale, se tu, un corpo di una donna, l'hai reso perfetto, o di un uomo l'hai reso perfetto, grazie al computer, lo devi indicare nell'immagine, così come, se tu hai inserito un cielo che non esiste, un modificato, la forma di una montagna, di una collina, hai tolto e fatto, hai tolti i fili della luce, rendetevi conto anche l'idiozia di quell'applicazione, cioè, io quando vedo quell'immagine lì, mi vengono i brividi, perché, ma è come se tu vai a Praga, dove è pieno di tram, che fa parte del paesaggio, cioè, se io faccio una foto di una città, che c'è il tram, ci sono i fili, eccetera, vuol dire, quello è paesaggio, cioè, è paesaggio urbano, vuol dire, è come i fili d'erba, cioè, faccio un'applicazione e togli i fili d'erba, perché mi stanno sui coglioni, ma ragazzi, ma vi rendete conto la follia di dove siamo arrivati? È assurdo, come tolgo gli alberi, perché, sai, mi coprono la montagna, allora li tolgo, faccio vedere solo le montagne, le montagne, dire, i fili dei tram fanno parte di un paesaggio urbano, ma di come stiamo ragionando su cose, stiamo vedendo cose che francamente ci dovrebbero dire ma questa è follia, eppure, uh, tutti, uh, hai visto, uh, io divento matto, cioè, ragazzi, veramente, rimango sbigottito dalla superficialità, utilizziamo questo eufemismo, dalla superficialità delle persone, cioè, ragazzi, ma togliere i fili, ripeto, delle tram, in un paesaggio che è fatto e che è rappresentato anche da questa caratteristica, da questo modo in cui le persone si spostano all'interno di un contesto urbano, per me è pura idiozia. Questa è la mia opinione personale, poi uno può pensare in maniera diversa, così come penso che un youtuber, un fotografo professionista che in qualche modo sponsorizzi questi software, se è un fotografo professionista, quantomeno manca divisione professionale, perché sostanzialmente le capacità che tu hai acquisito facendo del sacrificio, dell'impegno, formandoti, eccetera, eccetera, e che oggi hanno un valore commerciale per un'azienda, ad esempio, dice, ok, tu riesci a fare cose che io non sono capace di fare, grazie a questi software diventano sempre più semplici, e basta un impiegato che sia o no la passione per la fotografia che con un click ti fa praticamente la foto. Stiamo andando in quella direzione, anzi, ci siamo già in quel contesto e tu, fotografo professionista, sponsorizzi la contraffazione, cioè qualcosa che ti toglie uno degli elementi chiave per il quale un'azienda o un committente ti dovrebbe chiamare. E poi comunque questo tipo di approccio sminuisce la fotografia. Cioè, io credo che qualsiasi persona che realmente, attenzione, non ha chiacchiere, realmente ama la fotografia, debba sentirsi indignato per queste nuove tecnologie. Qualsiasi fotografo, ripeto, può essere anche Oliviero Toscani, non mi interessa, questa è la mia opinione, non me ne frega niente se ha vinto 50 premi Pulitzer, se sponsorizza queste tecnologie, per me, fa un male mortale alla vera fotografia. Quindi, questa è la mia opinione, ve l'avete chiesta, io ve lo dico, ormai lo sapete, potete anche non seguirmi più, perché se amate questo tipo di approccio, non c'è problema ragazzi, amici come prima, io sono molto schietto, molto aperto, se mi seguite un po' di tempo, lo sapete. Quindi, per me, chi ama la fotografia, deve sentirsi indignato di fronte a questi strumenti, perché ti stanno dando anche degli imbecille, dicendo che hai visto con un click, tu fai qualcosa che tu, insomma, ci mettevi prima i 10 minuti, insomma, ti toglie anche, come dire, una volta, per fare certe modificazioni, laddove fosse necessario o avesse un senso, cioè, veramente dovevi avere delle competenze di post-produzione. Oggi anche queste vengono tolte, quindi, praticamente, non c'è più bisogno di nulla, cioè, veramente, tu la costruisci al computer in un attimo. Vi dico subito, per, già lo so, l'obiezione, ma anche in analogico, eccetera. A parte il fatto che io non sto difendendo l'analogico, non sto facendo un tema digitale analogico, punto numero uno. Punto numero due, beh, le cose sono molto diverse. Prima di tutto, perché le manipolazioni fatte in analogico, comunque, sono fatte, intanto, grazie alla luce e grazie a foto che magari aveva fatto direttamente il fotografo e comunque ci voleva molta abilità nel fare questa cosa, cioè, erano pochissime le persone che erano in grado di fare delle manipolazioni fatte veramente bene, e comunque non era uno strumento a disposizione della massa, cioè, semmai era uno strumento di propaganda per le masse, perché queste forme venivano utilizzate principalmente per il periodo comunista, fascista, insomma, per propagandare qualcosa di falso, appunto, per contraffare la realtà, ma non era di certo uno strumento a disposizione delle masse, ci volevano competenze elevate. secondo me il passaggio che io con un click qualsiasi persona, mia moglie che non sa nulla di fotografia, può tranquillamente sostituire un cielo, cambiare lo sfondo, cioè, cambiare completamente l'immagine, modificare addirittura i rapporti di luce dell'immagine con un click, per me questa cosa è, ripeto, un tema importante che credo vada affrontata. Questa è la mia opinione, non siamo più in un contesto, in un momento storico, tecnologico che dice, vabbè, è un fenomeno limitato, no, ormai è un fenomeno di massa e credo, vista anche la pervasività dei social, credo che vada affrontata, questo è il mio punto di vista, ma non solo appuntista legale, appuntista psicologico, antropologico, sociale, eccetera, credo che sia veramente importante. Per cui, dipende a questo punto da noi, ecco il titolo di questa riflessione fotografica, cioè da che parte stai, perché purtroppo la tendenza è questa, perché purtroppo non c'è neanche lontanamente l'ipotesi, almeno nelle nostre società, ripeto, in contesti sociali più evoluti si ne sta già parlando, la, come dire, la discussione di limitare la contraffazione delle immagini, soprattutto veicolate poi in maniera così pervasiva con i social, a questo punto sta a noi, cioè sta a te decidere da che parte stare. Io, la mia decisione l'ho già presa, io ho già detto che a me personalmente interessa la fotografia che sia il più possibile autentica, mi interessa la fotografia, non mi interessa utilizzare delle scorciatoie, non mi interessa utilizzare foto fatte di altre e mettere l'interno delle mie immagini, soprattutto se è un lavoro può tra l'altro fatto per me, per il mio pescimè, per il mio desiderio, per la mia visione, a me la natura secondo me è già bella così, le persone sono già interessanti così, a me interessa creare un'immagine il più possibile verosimile che dica che parli di qualcosa e possibilmente per alcuni progetti lasciare anche un documento storico e quindi come tali non può essere ovviamente contraffatto perché è una fonte a disposizione degli storici di oggi e di domani, per cui questa è la mia visione, la mia, la mia, io ho scelto che a mio giudizio la soddisfazione di pensare ad una foto e grazie alla tecnica le competenze trasformarla in un'immagine sono molto più appaganti che premere con un tasto cambiare il cielo insomma ripeto riprendere questo scorciatoio e credo che il sacrificio che si fa fotografando realmente è molto più appagante è più faticoso per l'amore del cielo ma molto più appagante che fare le cose fatte al computer io questa è la mia visione personale e non mi piace prendere in giro le persone facendo credere fischi per fiaschi insomma come si suol dire quindi se è possibile cercare di essere coerente attenzione io sono favorevole alla post produzione cioè per me lavorare sul contrasto lavorare sulla luminosità lavorare sulla sotturazione ci può stare perché ci permette intanto di limitare eventuali limiti tecnologici dei sensori o della pellicola perché comunque l'interpretazione soprattutto nel bianco e nero dell'autore però andare a utilizzare immagini di altri e metterle nel dettaglio delle mie o addirittura modificare lo sfondo facendo credere a una cosa che non è assolutamente vera faccio questo esempio o modificare con un clic togliere i fili dei tram come ho detto prima secondo me non fa parte del mio mondo quindi insomma non mi interessa farlo quindi questa è un po' la mia visione per quanto riguarda questo tema e credo che ormai a tutti quanti noi spetti questa si debbano fare questa domanda le persone e spetti anche una risposta cioè devono darsi una risposta devono prendere una posizione se dalla parte di questo tipo di software di applicazioni perché tanto è così ma sì ma che me ne importa oppure si dice no a me interessa sudarmi la fotografia io vi dico la verità secondo me questo tipo di tendenza sta facendo molto male alla fotografia digitale molto molto male sicuramente a tutta una parte di fotografia digitale perché io francamente ripeto questi strumenti dei giochini a disposizione dei fotomatori medio-bassi di livello soprattutto culturale cioè come come visione della fotografia non voglio essere offensivo ma personalmente questo è il mio pensiero chi insomma ama utilizzare questi strumenti prende delle scorciatoie lo fa ripeto sostanzialmente per farsi dire bravo quindi secondo me dovrebbe riflettere su questo aspetto però non voglio fare il prete né il moralista di nessuno mi dico questa è la mia opinione però insomma io credo che questo tipo di approccio di strumenti stiano facendo male alla fotografia digitale non è un caso che sempre di più all'aumentare della semplicità grazie alla tecnologia della computergrafia e così via sta aumentando sempre di più il mondo dell'analogico perché? perché le persone vogliono scoprire il senso autentico di fare le foto e il senso anche di vero somiglianza di realismo che la fotografia analogica ti dà e che ti può dare anche l'analogico sta a te appunto decidere da che parte stare è chiaro che la fotografia digitale ti dà molte più possibilità con molta più semplicità e a un costo minore per questo è più difficile resistere alle tentazioni con l'analogico cosa vuoi tanto più che il 90% delle persone non hanno nemmeno un laboratorio a casa non è che si sviluppano eccetera per cui insomma gli interventi sono limitati è vero che uno può anche farlo digitalizza il file analogico e poi lo può sostituire però ragazzi chi almeno dalla mia conoscenza chi sceglie di vivere quel mondo lì quel modo di vivere la fotografia cioè che il modo per ottenere un'immagine è tanto importante quanto l'immagine stessa e che in genere dà molta importanza all'archivio alla documentazione storica eccetera eccetera difficilmente insomma si lascia tentare da questi software proprio o non gli interessano o appunto sono indignati come lo sono io in descrizione a questo video vi lascio anche un bellissimo lavoro di Fabiano Aventura che è un fotografo romano che ha fatto un bellissimo progetto di comparazione un progetto fotografico ovviamente di comparazione tra i ghiacciai nel 1800 eccetera eccetera in montagna non solo e quelli di oggi quindi ha recuperato tutte le fonti fotografiche storiche che hanno ripreso appunto questi ghiacciai e ha fatto la stessa foto con la stessa angolazione quadratura eccetera eccetera per far capire che cosa è successo nell'arco di pochi decenni insomma di circa un secolo ovviamente col fine di far capire il riscaldamento del riscaldamento globale insomma i temi ambientali che chiaramente conoscete ecco perché ve lo lascio perché provate a vedere il video guardate lo spessore di questa ricerca fotografica guardate l'intelligenza la profondità di un modo di utilizzare la fotografia e riflettete sulla cagatina di sostituire un cielo di andare a inventarsi la foto al computer facendo una cosa che un domani quella foto contraffatta non sarà mai più una fonte di documentazione una fonte storica quindi se questo processo diventa di massa agli storici togliamo una delle fonti più importanti per raccontare la storia che è la fotografia la fotografia la storia contemporanea grazie alla fotografia grazie al video è cambiata è molto più profonda molto più ricca di informazioni rispetto a quello che avveniva con le tavolette di marmo di tantissimi anni fa quindi nel momento in cui cominciamo a rendere disponibile a far sì che la fotografia diventi contraffazione pura questo secondo me è un danno importantissimo sul piano culturale oltre che insomma dovrebbe farci riflettere a noi come persone a questo punto io ti riperdo la domanda ma tu da che parte stai? fammi sapere la tua opinione ciao grazie a tutti